Arrivati in camera vi faccio vedere il bagno con i sanitari da questa parte questa è la camera, ho guardato come al solito il disordine questa è la stanza dei bimbi è la stanza dei bimbi noi ci saltiamo così per un po' di neve ora siamo andando a Vienna abbiamo cambiato rotta, neta abbiamo cambiato neta, siamo andando a Vienna forse arriveremo andiamo certo non è un abbigliamento propriamente da neve ma non siamo preparati siamo arrivati a Vienna e il mio primo desiderio è quello di trovare una mega sucker top ora parcheggiamo e giriamo per la città sembra veramente molto carina, è vero Claudia? si è picchissima è il mio figlio della mamma wow hai visto che mega cosa andiamo sul cavallo qua il cavallo però comunque è puccia puccia il cavallo è il mio figlio della mamma e per la prima volta giro con il calessino wow ah la coperta se hai voluto coprire mai lo farò siete emozionati bimbi? si vai all'indietro guardate ora la bella è la bella è bella guarda tutte le macchine sono piena di neve Claudio puccia c'è 按 c'è e attend Siamo amici, tutti quanti quanti Sì Anna è bellissima, veramente molto bella, è una piccola bomboniera Impressioni di Vienna, è veramente uno spettacolo di città, una bomboniera Ma si congela, infatti stiamo tornando perché siamo veramente in condizioni pietose Fa freddissimo e noi siamo vestiti un po' leggeri, un po' troppo leggeri Noi abbiamo giocato con la neve prima di andare qui Eh, senza guanti Sì però Che è? Con i guanti Che però non sono guanti da neve È vero, è già perché io mi sto raffreddando Infatti, ora non vediamo l'ora di arrivare alla macchina E di accendere l'aria calda Che io sto morendo di sonno Hai sonno? Sì Bene, in un albergo, andiamo in piscina oggi pomeriggio? Sì, sì Sì, sì Sì, sì Sì, sì 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 non ha dormito tantissimo perché si è raffreddato anche lui evidentemente non siamo abituati il mio netto Grazie a tutti